Presentazione, presentazione. Presenta. Dimmi un bello treno, tutto male. Winter Change. Modern Winter Challenge. Winter Change. Workout numero? General Delia, 21. Valeo Gianni. Workout è 1-2. Tutto male. Allora, riprendiamo già tutte le cose. Oh, tutte e due devo sapere. Bilanciere. Ma come faccio a fare tutte e due? Bilanciere, in qualche modo, lo devo riprendere. Bilanciere. 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 Questa non deve più uscire in quella dura. Questa non deve più uscire in quella dura. Da qua, da qua, da qua. Venti. Guarda che me stai faffando. Venti. 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 È complicato non fare le uscite in quella dura, eh? Faccio ci costruito. Venti. Venti, venti. appena tocchiamo partono le 10 appena tocchiamo partono le 10 aspetta pure là metti 21 l'hai messo vabbè quella scorre è infinito? vedi che non c'è un cab là vai 3 2 1 vai 8 7 6 5 4 3 2 1 via è 1 3 c'è un messo? 4.50 appena stacca le mani Lecce vai 10 20 30 30 40 40 basta basta 81 4 si 23 4 5 6 Basta Ale, 43 mi fate Il mio vanno retto Dai Ferro, ferro Il mio vanno retto Il mio vanno retto Il mio vanno retto Si, si andava tanto più veloce sui ring Come il movimento Ma qua è difficile Che faranno gente nuova più grande Saranno quelli dei Sì Viene un po' più da qua con il bilanciere Sì 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 un'amore che vorrò Ossia circa qua Ossia Ossia Eccolo Ossia Eccolo Ficco sull'argomento, ecco, 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 sull'argomento. Poi vanno a fare un po' prima. E' un po' prima. Poi. La vediamo a una. No, io ho già un po' prima. No, io ho fatto. Dove! Vanno? No, ma non è il momento a che si chiama. Come è il cioto? Oh, quello fa. Sotto che è l'acqua. a 7 8-6-4 sta scritto sempre là no no grazie abbastanza pure abbastanza se intanto poi bilanciari quando i troppi vanno per cazzi loro è il primo set noi siamo tornati in bocca tutti sentiamo venti eh parte lui parte lui con i jett no è stato nell'acqua è uguale 5 4 3 2 1 vai ecco con lui potrebbe vada che fa giusto snatch cioè no 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 non so perché adesso settimana non è bene 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 non so perché non so perché non so perché il primo quadro Partito così Non so come volessi fare tutti Ma io non volevo fare Stendi le gambe Bravo Ma se tu chiedi che quella spada avviene Non è, non è perché ti faccio la toccata Non ho visto Come se non si muove Io pure non ho fatto la nuova Non si è girato Neanche se è girato Infatti di quello di Famo non è più La sciaggia Ma adesso Sì Le prime Quattro, sette Hanno fatto in quarantacinque Leone Leo Leo Presso il set Quattro, sette non è tutto arco romano quando abbiamo finito il secondo giro andate su dretti, infatti è piaciuto un corto l'ultima stagione fa dai, il zio Leo Vabbè ma l'unico punto dove stai scannato è sui snatch e poi vai vai aspetta aspetta aspettatevi giù guardatevi guardatevi ma tu partisto c'era guardatevi questo a terra insieme c'era il parker un po' tu li saltavo i gambe uniti è importante che non lo staccai da terra questo a terra questo è il terzo rivale terzo rivale a 14 finirà vale il quarto finisce vale il quarto occhio occhio vento vento a terra insieme che stanno ancora venti è un 9 minuti 9 minuti ah sì no bravo non 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 cambia pure, non c'è, qua non so, fatto il massimo Abbiamo Dunque cosa c'è, c'è la ZB, la prima parte è nulla Tira un po' indietro Leo, tira indietro, sennò fei piatti Dai, dai, l'ultimo minuto, oh, dai Adesso, tutto adesso Dai, tutto adesso, vale 15 secondi Sì Leo pronto, Leo pronto, una, metti là Dai, inizia a caricare, Leo, poi recuperi Dai, due minuti adesso, a 16 decidi riparti Parti te, Leo Calcola bene il primo, il primo lo devi fare Do, due corpi Oh, che cazzo abbiamo in serio Che cazzo abbiamo in serio, parti te Geri, eh? Mati d'altro 92 92 e mezzo a 17 si va? a 16 a 16 a 16 a 16 a 16 30 secondi quella lì c'è sta? a 16 a 16 no perchè questo voraccio è partito sempre prima lui è finito pure lui eh ma te ne ho a 16 a 16 a 16 a 16 a 16 alla a 17 a 16 bravo io vorrei caricarlo senza che lo vedano gli altri, ma come si fa? io lo devi metterlo in elenco eh oh si 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 Alla prossima! scendi vai vai riprendi rifallo riposa un po' meno dietro comunque intanto da fatichi a ventuno hai due minuti sì 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 forte forte sì nooo 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 se ci fanno la guazzo nelle loro non lo faccio 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 me lo faccio mapporte di attenzione mapporte di attenzione Sì Scendi Sì 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 Avvicinateli come noi Questi due Ok Questi cinque Ok 10 Vedo E i 20 Vai Se lo vedete Boh Si vedrà Porta 100 una volta Via quei pesetti là E poi non ho mai capito Cazzo serve da una parte e dall'altra Ma che fai? Metti cinque kg di più da una parte? Eh sì E sei scompensato così Top Vai Leo Vai Leo Va bene Verde Verde Vienecco Al mezzo... Piancini da uomo Pipi di fuoco L Mostra qua Piancini Capititi Ultimo commento.